Ufficialmente questo si chiama l'innovazione, aspettate, c'è proprio un termine giusto che va assolutamente detto per comportarsi bene, innovazione, virgola, il futuro in mezzo a noi. La storia che vi racconto, le storie, all'inizio sono piacevoli, c'è un sacco di roba carina da guardare, da pensarci su, roba che ho visto, che ho fotografato, per me e anche per voi adesso. Però la storia col passare dei minuti con noi diventerà sempre un po', purtroppo non è colpa mia, diventerà sempre un po' triste, fino ad una fine triste, sgradevole e un po' deprimente. Ma non per colpa di voi, naturalmente, neanche mia, che io partengo ormai al giurassico, al pre-retinico, prima della rete, insomma. L'unica speranza siete voi, l'unica, in realtà, persone che hanno meno di vent'anni e che nei prossimi anni guideranno il mondo, non soltanto il nostro stravagante paese, ma il mondo complessivamente. E in questo momento siete qui a farvi rompere le scatole da me che vi racconto un po' di cose. Allora, la prima la vedete benissimo, forse ci può togliere un po' di luce, che bravi ragazzi. Questo è Canada, Canada molto a nord, questo è un orsetto, un personaggio strano, una creaturina, che sta lì, ha i fatti suoi, boh, chissà, cosa pensa. Però, qual è l'innovazione in mezzo a noi in questo caso? Semplicemente il fatto che l'ho fotografato. Ma non solo che l'abbia fotografato, ma che voi lo stiate vedendo in questo momento. Ma che lo stiate vedendo con un sistema molto complicato. È estremamente complesso. Lui è semplice, lui è una creaturina così che sta lì, fa i fatti suoi, e mi ha visto probabilmente allora. Mi ha visto, come io ho visto lui, o lei, che creaturina fosse. Però, quello che è importante è che qui adesso lo state, vedendo voi, in un sistema estremamente complicato, che voi non avete fatto, perché è stato pensato, inventato, dolorosamente creato da persone che erano prima di voi. Adesso guardiamo un po' più avanti. Vado dove? Vado qui sotto? Non è un accidente. Va bene, non è un accidente. O se no, guardi. Ah, ecco. Se no, con il mare. Si può vedere un po'? È un po' veloce. Ah, eccolo qua, d'accordo. Allora, torno indietro un istante. Adesso, vi faccio... Adesso questo affare qua. Sono immagini, quindi non vi sto a fare la tiritera adesso della storia, la fotografia, i computer, tutte e tutte queste bellinate qui che vi ho raccontato, ma farvi vedere degli oggetti. Questo oggetto non è stato fatto da mano umana. Queste sono chiamate scale dei giganti, sono porfido. Questa qui è una fotografia nel nord dell'Irlanda, ma ci sono fotografie identiche fatte in Canada, dappertutto. È un fenomeno complicatissimo, in cui molti miliardi e miliardi di anni fa il basalto, man mano che usciva dalle bocche vulcaniche, si può per dire, pian piano si raffreddava, un po' come la minestra, diciamo, un po' come la minestra. E man mano che si raffreddava, queste cose si assumevano una forma, in questo caso una forma geometrica, esagonale. Sono miliardi, miliardi di prismi esagonali perfetti, che nessun essere umano ha mai fatto, ma che ci sono. Qui la gente si va, le guarda, le fotografa, ci cammina, ci inciampa e prosegue. E' qui? Dov'è? E' questo? Ecco, grazie. Qui è un po' più complicato. Questa è una cascata, ovviamente lo vedete benissimo. Anche qui gli uomini non c'entrano niente, non hanno fatto nulla, non c'erano neanche, non hanno avuto neanche in mente di stare lì. Sono miliardi e miliardi, miliardi di anni fa. Solo l'acqua è caduta per miliardi di anni e ha scavato qua. E noi vediamo delle immagini. Gli uomini non hanno fatto nulla. Prima di tutti quanti voi, prima di qualunque cosa, ma la roba c'è. E in questo caso, è banale se volete, il protagonista è il tempo, cioè l'acqua. Voi avrete molti problemi quando crescerete, diciamo, scusate l'espressione, di fronte al problema dell'acqua. Senza acqua non si va avanti. Adesso questo è un po' più complicato. Questo è un po' più complicato. Che cos'è questa roba? Qui non è così banale come l'orsetto, eccetera. Questa è una diga di castori. È una diga di castori nel nord del Canada. Ah, uh, troppo gentile, dai. Scusate, sono veramente un becilla. Ecco, non gli dà fastidio l'oro? Perfetto, grazie, scusate. Qui abbiamo una situazione molto più complicata. Non è l'orsetto, pollaiato lì, poverino, è orsetta. Questa è una diga di castori. Vuol dire che qui degli animali hanno pensato, hanno agito, hanno costruito, hanno tagliato centinaia e centinaia di alberi. Gli hanno fatti cadere tutti nella stessa direzione. Gli hanno messi tutti quanti insieme. Poi, alla fine, col fango copreranno tutto. Poi, dopo aver fatto tutto quanto questo, avranno creato un lago e nel centro del lago, in un posto protetto, in cui le faine, gli altri animali, eccetera, non possono andare, allora proprio lì loro scaveranno la loro casa. Sott'acqua. In modo tale che i predatori, chiunque esso sia, devono andare sott'acqua. le lontre soprattutto e cercare di entrargli in casa. Ma loro si fanno una casa. Comincia l'architettura. Loro non lo sanno, ma stanno facendo gli architetti. Costruiscono la casa. La casa, in questo caso, avrà un accesso subacqueo. un sistema subacqueo di passaggi in modo tale da tenere lontano gli animali pericolosi. E tutto questo è finalmente architettura. Vedete, non è soltanto acqua che cade, l'orsetta o l'orsetto ignaro, appoglato lì, l'acqua che cade, inconscia. No. E la... Comincia l'architettura. E un po' succede di tutto. Che cos'è questo affare? Questo qui è un disegno, in realtà, è il disegno di un disegno di un disegno di un disegno. Adesso non stiamo riempendo le scatole, questa roba. È un disegno fatto da un signore che si chiamava Labate Breuil, che era un antropologo, era uno studioso dell'antichità e che in questo caso particolare disegna un mammut. Quindi siamo... Più recente, che non le cose che avete visto. Ma questo mammut che Labate Breuil disegna, cosa gli mette dentro? Un cuore. Un cuore che si vede. Non è che cominci l'anatomia qui, non è che cominci l'architettura umana, no, per carità, siamo... È tutta un'altra storia. Non cominci la zoologia, per carità, ma è il fatto che lui, Labate Breuil, vuole indicare che è vivo. La differenza fra la vita e la morte comincia a essere percepibile, percepita, desiderata e temuta dagli esseri umani. Questo è un altro posticino qui curioso. è un po' imbarazzante dirlo, ma insomma questo è uno shopping center a Toronto. È un più bello era, è tuttora, il più bello shopping center del Canada. È Canada inglese, non è Canada francese questo. Sono molto diversi, alcuni sono cattolici, un po' retrivi, rompicoglioni, altri sono tipi diversi. Questo qui è Canada inglese, inglese, si parla inglese, non francese qua. E in questo centro, Eton Center, chi l'ha costruito, l'ha costruito una volta, questa è architettura, super architettura, complicatissima, tutti andano a rompersi le scatole, ma per renderla viva, per rendere viva l'architettura, hanno sospeso sotto la volta di cristallo e di vetro cinquantadue sculture che rappresentano delle oche migratrici in scala naturale. Tutte dipinte, disegnate, tutti gli occhi, tutte le penne, cinquantadue, ma sì, via, cinquantadue settimane per un anno. Quindi è come se uno, tutte quante le volte che va a Eton Center, vedesse passare il tempo e cammina sotto questi animali che lo accompagnano, li vogliono bene, lo aspettano, gli fanno compagnia. Quando andrete, se andrete, Canada, non Canada, non importa, vi succederà qualunque cosa nella vita che sarò io e sicuramente le cose migliori possibili ve le auguro. Andate in questi posti, perché gli indiani, chiamiamoli indiani, scusate la banalità, gli Ogibva, la nazione Ogibva, la nazione indiana con Ogibva, aveva coperto tutte quante le sue terracotte, i suoi vasi con figure di grandi ocche migratrici, perché avevano la sensazione della distanza. Ma non distanza nel senso come da A a B, distanza nel senso come tra paesi, tra luoghi diversi, quindi lingue, quindi distanza. Eccole, vedete ancora ci sono dei vasi Ogibva che sono meravigliosi, che rappresentano queste meravigliose ocche. Qui stanno atterrando, vedete, le prime stanno proprio atterrando giù ed è veramente una cosa per cui uno si dimentica di essere in uno shopping center e sta lì seduto e guarda solo le occhie che se ne frega. E adesso purtroppo diciamo è come se dovessi fare un compito di fronte a voi, un compito di fronte a me stesso soprattutto imparare a scrivere. È molto importante. È quasi forse più importante che imparare a parlare. Se c'è qualcosa che è proprio diciamo nella terminologia qui del del congresso come è stato chiamato che è stato chiamato appunto innovazione il futuro in mezzo a noi questo è il futuro quando qualche d'uno di fronte ad una pietra ancora non scritta vedete siamo molto lontani ormai dall'orsetto sta scrivendo dove Delfi questo è Delfi questo è il Temeion il grande muro classico il muro sacro su cui appoggiano alcuni dei templi di Delfi e questo l'ho scelto apposta per noi per voi soprattutto che avete da poco imparato a scrivere ma non fatevi fregare non dimenticate mai l'onore che avete di saper scrivere guardate qua questa è l'architettura dove siamo Cappadocia questa è Cappadocia molto oltre i limiti dell'attuale Turchia quasi nei confini con il nord dell'Iran Cappadocia e qui chi abitava qua dei monaci dei monaci hanno abitato in questa zona che fino a questo punto è tra virgolette naturale diciamo l'innovazione in mezzo a noi l'innovazione in mezzo all'oro perché da questo punto in poi l'oro scavano e vedete i tracci dello scalpello qui in basso questo è proprio il lavoro organizzato non è una persona sola sono molte decine di migliaia di persone che lavorano per centinaia di anni assieme ammazzandosi per carità sgozzandosi fra di loro ne hanno fatti tutti i casini possibili immaginabili però a noi ormai è rimasto ma è rimasto che cosa è rimasto la parte come l'orsetto insomma la parte vecchia poi da questo punto in poi diventa architettura questo è lavoro quindi è parola quindi è comunicazione sindacati fesserie però la cosa più interessante ci sono queste sei finestre il che vuol dire che loro hanno costruito una casa con delle finestre per far entrare la luce dentro la casa quindi luce naturale poi vedrete che succede dopo quando la luce non sarà più naturale ma non solo hanno fatto questo lavoro ma l'hanno anche adornato l'hanno reso bello non solo hanno fatto questo enorme spaventoso lavoro perfetto perfetto se voi andrete in Cappadocia fatti vostri non importa niente ma andate muovetevi da casa non state seduti qui muovetevi quando siete qui entrate dentro le case è perfetto ci sono tutti quanti non gli armadietti naturalmente sono tutti quanti i posti in cui si mettono le cose i buchi nel muro diciamo i luoghi dove si dormiva tutto con una lucidità e con un'intelligenza spettacolare ma in più c'è anche uno due tre croci e alcuni chiamiamoli motivi ornamentali adesso non stiamo qui ma queste tre croci sono evidentemente è ovvio le tre croci della crocifissione quindi comincia diciamo per noi per noi adesso questo enorme complicato rebus che sono le religioni in cui non voglio alterdarmi non voglio fermarmi perché è molto complicato e non vale la pena che io dica delle fesserie su un argomento immensamente serio e complicato come questo però voi avete visto non certo l'inizio della religione cristiana per carità ci mancherebbe altro però avete visto l'inizio di una narrazione se c'è architettura se c'è architettura c'è questo che cos'è questo affare questa è una colonna una colonna dorica questa è l'acropoli di Atene adesso è inutile stare a fare le guide turistiche e questa questa colonna è una colonna di un ordine chiamato ordine dorico non ho nessuna importanza di parlarne fatta perfettamente cosa comincia qui una cosa che è un po' nascosta non la vediamo subito il pi greco cioè il rapporto fra la circonferenza e il diametro pi greco pochi giorni fa mi pare la televisione che io odio mortalmente perché non la vedo mai ma vedo soltanto dei filmetti così così non vedo la pubblicità e me ne frego e hanno fatto un film interessante chiamato pi ed è la storia del pi greco ma è anche la storia di una tigre di una tigre che combatte un uomo e poi si allontana da sola dopo aver combattuto contro questo uomo ma non entriamo è il pi greco bene questo è il pi greco cioè non è soltanto scrivere alfa, beta, gamma quello che volete oppure in giapponese questo è fare dei calcoli fare 3 e 14 e 5 7 e 9 per tutte quante le 500 600 700 cifre che volete e questo oggetto è coricato sta lì da migliaia di anni non tanto questo è recente questi sono 450 avanti Cristo insomma è roba di pochi giorni di pochi giorni fa diciamo però è innovazione attorno a loro non attorno a noi chi ha fatto questo ha innovato rispetto al suo punto perché ha calcolato la circonferenza diviso il diametro l'ha calcolata e ha scritto tutti i numeri fino a 600 700 800 900 numeri quanti sono non ha importanza proprio 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 in questo momento 450 avanti Cristo questa immagine che secondo me non può non veramente per o meno a me mi mi strazia l'aria della bellezza che sono sono i cavalli scolpiti da Fidia per il Partenone una parte della grande cavalcata degli equiti dei cavalieri partenonici e questi meravigliosi cavalli stanno ornando è un ornamento è una narrazione è un testo è soltanto un'immagine è un impegno democratico e politico è una serie di parole che accidenti è tutto questo sì sono anche dei cavalli meravigliosi che uno può andarsene a vedere al British Museum a Londra d'accordo ciccia finito però in realtà c'è un sacco di roba qua dentro solo questi cavalli sono al British Museum d'accordo gli inglesi l'hanno portati poi c'era un sacco di pasticci un italiano ha prestato un carro questo carro si è rotto le ruote poi insomma un sacco di pasticci turchi corruzioni sono stati venduti per due orologi da polso dell'opascià di allora e tante altre cose affascinanti che vale la pena di leggere se avete tempo di leggere non di guardare dei telefonini capito? andiamo e infatti proprio questo è il partenone quindi diciamo adesso adesso poco recentemente pochi giorni fa una persona molto importante molto più importante di me che si chiama Cesare Settis ha scritto un libro che si chiama Democrazia e Architettura cosa c'entra la democrazia con l'architettura quelle sono mura colonne tetti scale cessi cosa c'entra la democrazia e come se per caso purissimo per sbaglio per errore vi capitasse tra le mani il libro di Cesare Settis che è stato direttore del Polghetti Museum a Los Angeles per tanti anni che si chiama Democrazia e Architettura capirete come il discorso attorno alla parola architettura è molto più complicato di quella che possiamo avere iniziato allora soltanto appena appena ad accennare questa qui è una signora che ha rivoluzionato completamente la danza Isadora Duncan Isadora Duncan muore in un modo assolutamente straziante bellissima geniale coraggiosa muore muore soffocata schiacciata dal fular dal lunghissimo fular che teneva nella macchina che conduceva e questa fular si si rotola attorno ai mozzo della ruota di dietro e la strangola e muore così Isadora Duncan la donna che ha rivoluzionato la danza qui è nel partenone sta presentandosi ma chi è Isadora Duncan qui? è la Grecia è la democrazia è l'ordine contro la guerra l'ordine contro la barbarie l'ordine contro il disordine morale questa è democrazia danza e democrazia naturalmente danza e democrazia Isadora Duncan poi naturalmente ci sono tantissime altre danzatrici per carità su cui non voglio ma questo non è un giorno che ci vedremo quando mai capiterà una storia della danza a uomini e donne a chi interessa vale la pena proprio di di studiarsela perché la danza sia in Africa che nel sud che dappertutto è rivelatore del movimento del corpo umano non è soltanto Richard Gere che parla di danza o che deve andare in Tibet per imparare a ballare ma basta stare qui ma non ballare con un casino di rumore e un sacco di flash inutili io ho visto discoteche a Los Angeles uno chiamato The Whale chiamata La Balena addirittura così grande che sembrava di stare dentro la pancia di Moby Dick ma era un gran casino non era molto divertente almeno secondo me io sono stufato mi sono andato ok c'è un personaggio curioso passiamo subito e procediamo su cose più serie ma non è che tanto più serie questi sono dei maialini l'avete visti che si si nutrono questo qui è delizioso guardate la posizione di questo maialino qui che stanno mangiando chi è che ha dipinto questo affare l'ha dipinto un certo signor Tiffany quello di colazione da Tiffany un americano ricchissimo intelligentissimo buono elegante bellissimo come uomo ricchissimo e bellissimo e qui c'è qualcosa di interessante ma proprio un passant diciamo attorno a noi che cosa? la creazione della ricchezza personale l'essere ricchi l'essere ricchi vuol dire che un altro è povero per definizione non si discute su questo ma c'è modo e modo di essere ricchi c'è modo e modo di essere civili di condividere le cose e questo naturalmente non sono un esperto di economia e non me ne frega assolutamente niente non ne so nulla e proseguiamo assolutamente però quando uno va a vedersi la Audrey Hepburn che recita in colazione da Tiffany e bisogna che si ricordi di questo bellissimo uomo che si chiamava Tiffany elegante sofisticato che parlava tante lingue che abitavano io quando era nato aveva già ereditato molti milioni di dollari dai suoi genitori quindi non era un voto di fame un altro mondo un altro mondo che assomiglia un po' all'orsetto all'orsetto da cui siamo partiti da cui vi ho fatto partire scusate c'è un posto in Canada questo qui è Canada inglese non Canada francese ho detto che si chiama i petroglifi c'è una grande pietra circolare non è fatta dall'uomo la pietra non è fatta dall'uomo la pietra è circolare di circa 400 metri di diametro mezzo chilometro è una grande pietra è semicircolare e questa pietra adesso naturalmente è al centro di un pavillon di un padiglione molto elegante in acciaio sottilissimo quasi invisibile che lo protegge perché c'è neve c'è un freddo una madonna da quelle parti però sulla superficie sono stati scolpiti per centinaia e centinaia di anni dalle popolazioni dalle nazioni scusate indiane le ogiva soprattutto delle figure che vengono chiamate i petroglifi cioè i glifi scolpiti in Italia basta andare al confine con la Francia abbiamo esattamente la stessa cosa su una scala più piccola magari un po' più mediterranea ecco se volete però e viene rappresentato per esempio in questo caso ci sono centinaia e centinaia di queste immagini adesso sono stati dipinte in nero hanno fatto un sacco di litigate per rendere visibili e non vedibili ma adesso non entriamo nel fatto qui c'è un coniglio non è una cosa così banale come l'orsetto all'inizio è l'innovazione in mezzo a noi nel senso che quando questi signori questi ogiva o sotto ogiva adesso non entriamo nei dettagli disegnano queste cose rappresentano per esempio in questo caso che cosa uno sciamano è una religione è lo sciamanesimo ma chiedetelo abbattiato non si sa comunque è sicuramente una forma di magia e qui sicuramente una persona un essere umano sicuramente un essere umano si metteva in testa due orecchie da coniglio non lo so sicuramente faceva una danza vedete che questa innovazione in mezzo all'oro è un'innovazione molto complicata non è una religione è una cosa più complicata più più emotiva più dentro non è come la cappadocia l'avete visto e questi questi ogiva sono sono lì e hanno semplicemente suggerito l'idea che ci sia un coniglio che balla ma perché balla cosa dice guardate chi è Costello lo sapete benissimo naturalmente Alice era Alice Alexis Caron Alice nel paese delle meraviglie in questo caso c'è un coniglio un coniglietto che se ne va vedete che il coniglio sta andando in là verso il buio e Alice lo sta guardando qui c'è qualcosetta c'è un fazzolettino adesso non stiamo e anche le scarpette sono molto carine ma non entriamo nel dettaglio lui sta andando verso il buio questo coniglio e perché sta correndo sta correndo perché è in ritardo forse non ci penserete per un istante ma non importa che se ne frega comincia il ritardo si arriva in ritardo il treno in ritardo l'aereo è in ritardo la cultura è in ritardo la civiltà è in ritardo ritardo rispetto a cose voi non siete in ritardo siete in anticipo voi siete in anticipo siete voi che stabilite il ritmo del tempo ok lui in questo momento sta andando di là e tecnicamente parlando in modo molto banale cominciano le ferrovie il ritardo dei treni non avete tempo non importa niente però se per purissimo caso vi capitasse di andare a leggere guerra e pace di un certo talo sto lì c'è tutto quanto una storia c'è due capitoli sul ritardo è il ritardo della corsa dei cavalli soprattutto chi arriva in ritardo voi non arrivate in ritardo voi state partendo in anticipo però c'è qualcosa di curioso che vi accenno brevemente per non farvi perdere tempo altronde il mio dovere è essere qui e io sono stato autorizzato dalla città di Foligno a parlarvi in pubblico liberamente cosa che io faccio e mi sento totalmente libero di farlo c'è qualcosa che ha a che fare con una cosa chiamata teatro architettonicamente eccetera eccetera ma teatro è una cosa molto curiosa perché quando uno va a teatro sia che facciano vedere Shakespeare entra in uno spazio tempo che non è quello diciamo di quando uno ha preso l'autobus prima o torna a casa la sera o ha preso il treno per andare in quella città è uno spazio diverso è un tempo diverso cose che riguardano un certo signor Macbeth una certa signora Macbeth una spada sospita per aria chiacchiere che non si capisce bene quando sono cominciate quando sono finite perché sono avvenute chi le ha dette bisogna crederci o non crederci a quello che vediamo a teatro ma chi se ne frega del teatro il teatro non va lì vede la gente dice io mi chiamo signor Macbeth ah piacere conoscete io mi chiamo Mamleto ah il suo teschio dove l'ha messo scusi ora questi qui sono disegni diciamo di un vaso greco che rappresenta una forma molto semplice diciamo ecco di teatro in realtà chiamiamole tra noi saltimbanchi una specie di tempo fermato tra gioco gioco che non si fa non fa ridere tanto è una specie è imbarazzante infatti è tutto quanto un po' sessuale un po' un po' confuso un po' volgare però insomma questo disegnetto molto grazioso molto grazioso di un fumettista celeberrio che disegna in un modo meraviglioso rappresenta poi vi faccio vedere un po' qualche dettaglio com'era come appariva il teatro nel settecento a Venezia non è soltanto far finta che lì c'è una signora chiamata Lady Macbeth che fa finta di salire una scala facendo finta di guardare una spada no qui è più tecnico guardate per esempio qui c'è un diciamo il il teatro visto da dietro e qui sopra qui per esempio c'è una specie di nuvola che è attaccata con dei fili in cui c'è un angioletto che dice qualche cosa eccetera è molto complicato perché questo affare qui era di legno era di tela era di gesso era dipinto era attaccato a un filo quindi l'aveva tolto messo spostato oppure in un'altra parte dello stage del parco scenico c'è altra gente che sta dipingendo sua volta qua dipinge delle scene che poi andranno a finire qua oppure ci sono qui i coristi che stanno provando in questo punto in questo angoletto qui e qui altre fanciulle cioè attrici che si stanno cambiando mettono le nuove scarpette e qui sono le prove musicali e qui c'è una prova che una persona che senta di cantare cioè per dare un'idea di tutto quanto a questa cosa c'è o non c'è? c'è o non c'è? per la gente che infatti intelligentemente questo formidabile disegnatore lascia il pubblico svanire come se non ci fosse il pubblico perché la realtà fosse veramente questa cioè la realtà è ciò che non è diciamo ma adesso non voglio romper troppo le scatole con queste tirate però il disegno è estremamente intelligente perché dà tutte quante queste informazioni e ci incuriosisce qualche cosa che ha a che fare quindi con il teatro eccolo qua allora teatro architettura in questo punto questo caso particolare questo caso particolare rappresenta una colonna enorme molto grande gigantesca coricata perché ormai è abbattuta nel centro di Atene e si chiama l'Olympiaion è il centro di Atene e questo qui si chiama Capitello si chiama in un certo modo questo tipo di Capitelli e così via ecco se vogliamo vedere la colonna e tutta quanta questo dà un'idea anche della democrazia e architettura non entriamo un pochettino nei dettagli ma qui c'è ancora una colonna in piedi e la colonna è tutta quanta atterrata con il Capitello ormai coricato di fianco quando Salvatore Setti scrive e poi non ne parlo più di Salvatore architettura e democrazia e democrazia si allude appunto al fatto che la costruzione di queste cose era costosissima per tirare su questa roba nel quarto secolo avanti Cristo venivano utilizzati fondi enormi una qualità enorme di denaro dove veniva il denaro tanti giri adesso non stiamo a sapere da dove viene il denaro perché ci complicheremo troppo troppo la vita però il denaro veniva anche veniva anche da un posto ormai lontano un posto che forse che io mi auguro che voi possiate andare a visitare perché rivela tante cose e si chiama questo posto Petra in Giordania questo è un vedrete un canyon naturale diciamo si fa per dire che porta ad un tempio e ci sono delle statue che ormai sono state erose dei venti del deserto di cui rimangono soltanto qualche cosa e basta questa roba qui diciamo l'innovazione attorno a noi certo innovazione adesso è archeologia ci si va si va si paga si si va però guardate questo e cominciate a avere una sensazione non dico non voglio rattristare nessuno naturalmente ci mancherebbe altro ma questa città non c'è quasi più la città si chiamava si chiama Palmira nel centro della parte della dell'Asia dove fermavano le carovane a Tadmor qui si passavano le vie della seta della tela del cotone i cammelli milioni di cammelli che sono andati venuti e adesso non c'è più niente solo la distruzione questa è Palmira non più di diciamo 15 anni fa quando siamo stati 20 anni fa e questo oggetto sempre Palmira fotografia fatta di notte questo oggetto non c'è più non c'è più perché purtroppo un gruppo di persone hanno deciso di eliminarla di non farla più vivere voi che siete molto giovani dovete affrontare dei problemi che per fortuna io un vecchio bacucco ormai non posso più non ho più necessità forza intelligenza di affrontare ma voi ce la fate non viaggiate non credete alle palle che vi raccontano pensate con la vostra testa quando qualcuno distrugge qualcosa senza spiegazioni chiedeteli perché stai distruggendo questa roba come mai chi ti ha fatto convincere che devi ammazzare questa colonna banale e poi tra poco ve ne andiate non si può trattenere troppo lungo la gente eccetera questo appartiene un pochettino ancora se volete al mondo dell'orsetto un alligatore in Marocco un grande alligatore in Marocco bellissimo assomiglia un pochettino alla storia che avete visto del Mamut però domandatevi come qualche d'uno nel sud del Marocco molte non tante centinaia di anni fa no sono una cento anni fa non di più quindi l'innovazione in mezzo a noi fino a un certo punto ha scolpito questo grandissimo enorme cocodrino un posto in cui non c'è quasi l'acqua però è assolutamente e qui sono sotto degli ippopotami e degli elefanti questo varrebbe la pena ma non va la pena per tardi poi ci dobbiamo vedere andate a Berlino non è difficile pigliate questo accidente di aereo e andate a Berlino che si è visto si è visto al museo Minzel alla zona dei musei c'è una cosa chiamata la porta di Ishtar Ishtar era la grande idea dell'universo insomma la dominatrice degli animali amore dumezil signora degli animali e la porta di Ishtar era ornata da leoni questi meravigliosi leoni mesopotamici ma adesso guardate soltanto per un istante se avete un interesse tecnico per un istante la raffinatezza della della lavorazione qui delle 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 mattonelle questa gente è di quattromila anni fa la perfezione assoluta della coda della gamba le unghie guardatelo quello che vi invitavo a fare poi ripeto fra poco ce ne andiamo guardate i dettagli delle cose in architettura guardate i dettagli la precisione del dettaglio come si dice francese i dettagli li fa il dio i dettagli li fa dio è una frase molto ben detta i dettagli li fa dio non li fa l'uomo li fa dio è meraviglioso questo questo è un altro dettaglio ma con questo finiamo è un dettaglio di un meraviglioso ma da centinaia sono centinaia centinaia di vasi greci questo museo non so forse un museo addirittura a Minneapolis negli Stati Uniti che rappresenta questo è un piccolo pezzo di un vaso meraviglioso in cui c'è un uomo una donna che balla e che danza insomma qui diciamo l'ombra di battiato ricompare travestita e da una parte all'altra però effettivamente indica proprio diciamo il piacere della danza io non so ballare non ho mai ballato in tutta la mia vita non so fisicamente ballare sono veramente una specie di di ragazzo in questi sensi però quando una persona balla balla non saltella non si dimena non fa delle scempiagge balla che è diverso nel silenzio per esempio di un bosco non in mezzo ad altri 15.000 idioti che fanno tutti quanti lo stesso movimento finisce così perché questo è anche legato a una storia che farò vedere ai vostri futuri persone più vecchie di voi che è la storia dell'acustica di come si ascoltano le cose questa qui è troppa ve lo faccio vedere per un secondo è un pezzo di un dipinto meraviglioso andate in Grecia a Santorini nell'isola di Tera in cui ci sono questi splendidi affreschi meravigliosi in cui c'è questo uccellino eccetera Tera Santorini insomma andate anche lì andate prima che che muoiono di casino tutti quanti questi greci che hanno fatto tante cose che si ammazzino fra di loro nella povertà nella sporcia Atene fa schifo adesso guardate come è bella questa fanciulla The Wall Painting è un libro molto bello sulla sulla freschia a Tera o a Santorini guardate i dettagli meravigliosi di questa fanciulla che ci ha qui attaccati questi perché evidentemente quando lei muove il braccio fanno dring 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 suonano e questo braccialetto meraviglioso e il profilo squisito che parte da qua e questo ricciolino qui ragazzi questa è seduzione a un livello elevatissimo altro che tante bellinate che ci sono di questi tempi questa è seduzione guardate questa codina che viene fuori che roba ragazzi finiamo love questo qui è filadelfia ed è la grande scritta che è nel centro di filadelfia è interessante perché è una posizione molto particolare questa scritta filadelfia è una città molto bella molto intelligente molto ricca e anche molto colta libri musei tutto c'è un casino di roba e poi c'è in mezzo questo oggetto love che è diventato filadelfia stessa in un certo senso quando uno è lì si siede e guarda magari si innamora questa qui è l'ultima questa qui è il sottoscritto che vi saluto tantissimo da Delphi vicino al mi sono permesso di farmi fotografare vicino alla origa di Delphi per dire è un ravatto umano come me adesso di fronte a questa sublimità assoluta la bellezza quindi ricordatevi la bellezza soprattutto il rispetto verso voi stessi e il rispetto verso il futuro bye bye grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti